Avere il privilegio di riaccendere le luci dell'Arena di Verona, di un tempio della musica mondiale, è uno dei regali che la vita mi ha fatto in questo periodo. Ho avuto la possibilità di cantare Fai Rumore da solo e ho sentito la mia voce ritornare indietro con un bagaglio diverso. Vedere l'Europa riunita in una manifestazione come Europe Shine a Light, credo sia un messaggio molto forte anche per i nostri politici. Proviamo a immaginare i mesi che abbiamo vissuto senza la musica, senza i film, senza un libro, senza l'arte, senza la cultura. L'arte e la cultura sono i colori, l'anima è l'essenza dell'umanità, è la testimonianza che gli esseri umani lasciano. Domenico Modugno per me è sempre stato un faro, una fonte di ispirazione. Pensare in qualche modo di poter anche solo frequentare gli stessi luoghi in cui lui è stato è per me un grande onore. Il cinema per me è una grandissima passione. Io sono proprio un frequentatore di sale cinematografiche. Vado al cinema spesso da solo, avere la possibilità tramite la musica di avvicinarmi a quel mondo lì, per esempio con una colonna sonora, è un grande regalo che mi viene fatto. Fellini diceva che l'unico vero realista è il visionario. E sono molto d'accordo. Credo che tutte le volte in cui, anche nella mia musica, sono riuscito a raccontare delle visioni, anche molto strane, che avevo. In qualche modo mi sono riuscito ad avvicinare a una verità. Grazie a tutti.